Sono le 9 e 37 minuti, entriamo, rientriamo qui su Play, siete sempre all'ascolto, magari anche alla visione di RBA, siamo nell'ultima parte della puntata, sapete che ci salutiamo intorno alle 10 e voglio prendermi tutto il tempo necessario per raccontare di questo graphic novel che è stato appena appena pubblicato da Altra Economia e che è dedicato ad un personaggio di cui abbiamo parlato molto spesso qui su Play e quindi volentieri ci ritorniamo. Il titolo di questo testo è molto semplice, molto diretto, Julian Assange, questo è il titolo e poi il sottotitolo racconta Wikileaks e la sfida per la libertà di informazione, è stato realizzato per Altra Economia da Dario Morgante e da Gianluca Costantini e proprio Gianluca, andiamo a salutare ed accogliere qui su Play. Ciao Gianluca, benvenuto. Salve a tutti, buongiorno. Grazie mille davvero per questa chiacchierata qui con noi, come dicevo il libro è disponibile da qualche giorno, questo graphic novel. Julian Assange, appunto un personaggio che forse conosciamo, senz'altro tutti abbiamo sentito questo nome, forse per parte della popolazione è diventato uno di quei nomi che sì, riconosciamo, ma forse non sappiamo esattamente collegare qual è la storia che c'è dietro a queste due parole, appunto Julian Assange. Allora, prima di entrare nel vivo di questa graphic novel, ti chiederei, insomma, chiederei se tu hai voglia di riepilogare un po' di chi stiamo parlando e perché è così importante. Sì, beh, intanto è una storia che incomincia ad avere molti anni, nel senso che Julian Assange è stato tra i fondatori dell'organizzazione Wikileaks e parliamo del 2009-2010, quindi ormai 15 anni fa. Lui era un hacker e un giornalista, quindi ha questa doppia personalità. È molto interessante quello che fecero in quegli anni, nel 2010 soprattutto, quando Wikileaks pubblicò tantissimi documenti, tra cui il famoso video Collateral Murder, dove si rivelavano tantissime informazioni delle guerre in Iraq, delle guerre in Afghanistan e di tante altre cose di politica internazionale e di politica anche nazionale, nel senso che le rivelazioni erano di quasi tutti i paesi del mondo quasi, di tutti i politici. E quindi Wikileaks non faceva altro che pubblicare quello che riceveva da delle fonti. La più famosa fonte in assoluto è Manning, che fu proprio, era un militare allora, ed era quindi proprio, venne accusato di essere una spia e incarcerato per questo e per queste rivelazioni. Naturalmente quello che rivelarono furono cose sconcertanti per quegli anni, ma allo stesso tempo le persone facevano molta fatica a capire quello che faceva Wikileaks. Wikileaks. Nel 2010-11 era ancora molto presto e si faceva proprio, era difficile capire cos'era un cablogramma, perché erano cose da dove venivano, cos'era Wikileaks in generale e chi era Julian Assange. Non sembrava solo una persona molto brava a parlare, ma nessuno capiva bene quello che era. Chiaro, chiaro. In questo momento, tra l'altro, si trova per l'ennesima volta in bilico Julian Assange, perché appunto Sam Henning ha fatto il suo periodo in carcere e poi è stata graziata, se non sbaglio, da Obama. Ecco, Assange invece si trova sostanzialmente detenuto, anche se non è esattamente in un istituto di pena, però attende la possibile estradizione negli Stati Uniti, che è quello che chiedono gli Stati Uniti, ma per fortuna, per ora, la giustizia britannica gli ha permesso di ricorrere all'appello e di prolungare i tempi, anche se chiaramente non si trova in una situazione particolarmente invidiabile. Passiamo allora alla graphic novel di cui stiamo parlando. Ti conosciamo probabilmente Gianluca per il tuo tratto, per le tue illustrazioni. Viene definito sull'altra economia artista-attivista e quindi evidentemente questo doppio ruolo ha un certo peso nell'occuparsi di questo caso. E quindi, insomma, che cos'è questa graphic novel? Cioè, come raccontate questa storia all'interno di questo testo? Questo libro racconta tutto ciò che è stato Assange prima di venire arrestato. Quindi, tutte le rivelazioni, anche di quelle che abbiamo parlato prima, le rivelazioni, la sua formazione, ma anche Assange da piccolo, come è cresciuto, dove ha studiato. E ricordiamo che Giuliano Assange è un cittadino australiano, oltretutto. Quindi, c'è tutto il percorso e il perché loro facevano quello che hanno fatto, perché hanno rivelato queste informazioni e perché in quella maniera. Ricordiamo che quando vennero rivelate le informazioni, tantissimi quotidiani importantissimi nel mondo si misero insieme, fecero un gruppo di giornalisti e ognuno di loro analizzava prima di pubblicare tutti i documenti che arrivavano da Wikileaks. Anche Repubblica c'era in Italia in questo gruppo, con Stefania Maurizzi che ha sempre seguito questo caso. e poi, che ne so, Il Guardian, quotidiani importanti un po' in tutto il mondo. Quindi questo libro era più una fascinazione quasi di quello che loro facevano per noi, per me e per Dario Morgante che è lo scrittore. Perché veniamo da quel mondo, dagli anni 90-2000, in cui il web poteva essere un mondo di liberazione e rivelazione di quello che succedeva nel mondo. Poi però, Julian Assange, il suo percorso è finito nel momento in cui hanno cercato di processarlo per un finto, assurdo accusa di violenza sessuale, di stupro in Svezia e per questo lui, per non essere stradato in Svezia, in cui si diceva che poi sarebbe stradato automaticamente negli Stati Uniti si rifugiò nell'ambasciata dell'Equador, dove rimase per moltissimo tempo finché cambiò anche il governo ecuadoriano le sue decisioni e venne consegnato, nel senso proprio la polizia inglese entrò dentro l'ambasciata, preso Julian Assange e lo portò nel carcere dove si trova adesso. Quindi questo libro è più la storia di Assange libero, Assange che faceva le cose e che era il nostro rappresentante nel mondo del giornalismo, non viene raccontato quello che è successo dopo perché dopo è diventato un altro caso, un caso di diritti umani, una persona in una cella di isolamento da tantissimi anni, che non può malata, che rischia di essere stradato negli Stati Uniti con un'accusa di oltre 170 anni di carcere. Chiaro, sì, una vicenda di diritti umani dall'alto per quanto riguarda la sua figura individuale è anche una questione di diritto di parole, di libertà di stampa perché si rischia, in realtà forse l'abbiamo già superato, però insomma si rischia un enorme precedente perché è una condanna nei suoi confronti, soprattutto l'entità della condanna che vogliono infliggerli vogliono infliggerli Stati Uniti, sarebbe senz'altro un freno per la diffusione di notizie come quelle che sono state diffuse appunto da Assange. Come forse i nostri ascoltatori sanno, però mi sono occupato per diversi anni di fumetti allora ho alzato le antenne rispetto ad alcune cose che hai raccontato perché in quegli anni ho scoperto insomma che quando un fumetto, come può essere una graphic novel è realizzata da una persona che si occupa della sceneggiatura, da una persona che si occupa della parte illustrata non c'è davvero una divisione così netta insomma, i due lavori si incrociano ho qui un po' l'impressione che questo incrocio sia ancora più profondo cioè tu sei una persona particolarmente coinvolta e quindi vorrei dedicare anche un piccolo spazio su come è stato realizzato proprio praticamente questo graphic novel cioè qual è stato lo scambio fra i due? Beh intanto noi l'abbiamo fatto molti anni fa questo libro era tutto un altro mondo si può dire, solo dieci anni fa a trovare informazioni su Giuliano Assange era complicatissimo non c'era un movimento dietro di lui, non c'era una costruzione del personaggio non c'era una storia, non c'erano ancora i film, tantissime cose però noi volevamo fare quel libro in quel momento perché era il momento in cui Wikileaks stava facendo quelle cose e noi venivamo dal fumetto proprio underground e il mondo hacker ha sempre fatto parte di questo movimento il fumetto ha sempre vissuto parallelo alla controcultura anche in Italia quindi abbiamo cercato di fare quasi un instant book cosa difficilissima su un caso che era in via di sviluppo nessuno avrebbe pensato che poi sarebbe diventato un caso così clamoroso di un uomo arrestato per quasi punizione, per punire tutti i giornalisti perché questo è il caso di Assange, è un esempio lui è un capo espiatorio perché lui non è Wikileaks lui è solo il portavoce, è uno dei fondatori di... però è la persona che ben cinque nazioni vogliono colpire per far sì che non succeda più che i giornalisti si permettano di fare quello che lui ha fatto quindi noi abbiamo lavorato proprio come dei ricercatori sia per Dario sui contenuti, trovare chi era la madre, la famiglia quando studiava all'università in Australia come è diventato un... è entrata in questa organizzazione come è entrata in contatto con gli altri personaggi di Wikileaks e fino all'inizio nel nostro libro si arriva quando anche le prime accuse svedesi di questa violenza però è un personaggio molto particolare Assange allora quando facciamo il libro non era un personaggio particolarmente simpatico per le persone c'era poca empatia verso di lui poi naturalmente adesso invece che lui ha anche una famiglia ha dei bambini piccoli, due figli ed non ne ha mai potuti quasi vedere questo crea molta più sensibilizzazione nelle persone ci avvicina molto di più come persona, proprio come una persona, un umano chiaro, chiaro questo era importante per noi poi in verità il libro è anche molto leggero ogni tanto perché ci sono tantissimi cieli, tantissime nuvole ci sono cose anche molto... ci sono tante citazioni che vengono anche dall'adolescenza mia e di Dario quindi il film I tre giorni del Condor oppure War Games i film che ci facciano vedere quello che si poteva fare con le nuove tecnologie o col giornalismo e che qualcuno poi veramente ha fatto quando è cresciuto come Assange sì perché poi appunto giusto per fare una piccola parentesi quello che ha fatto Julian Assange con Wikileaks come portata forse era qualcosa di senza precedenti ma a livello di... insomma dal punto di vista pratico essenziale non era qualcosa di assolutamente mai successo proprio nella storia... se parliamo appunto del secondo novecento americano diverse inchieste di questo tipo diverse rivelazioni di questo tipo furono sostanzialmente... insomma per quanto riguarda i punti fondamentali la stessa cosa anche se chiaramente l'insieme dei documenti era minore insomma allora abbiamo raccontato qui questo graphic novel non l'abbiamo citato ma la facciamo perché è importante questo testo questo volume al patrocino di Amnesty International Italia infatti dentro ci sono anche alcuni testi di Riccardo Nuri il portavoce di Amnesty International Italia poi anche un intervento di Sheila Newman che è un'attivista ed è una hacker se ve lo siete persi in apertura il libro è pubblicato da Altra Economia è una graphic novel ve lo potete procurare lo hanno realizzato Dario Morgante e il nostro ospite di oggi Gianluca Costantini che ringraziamo moltissimo ciao Gianluca e alla prossima grazie a tutti